Ciao, chi è questo? Ciao, chi è questo? Ciao, ragazzi, una sorpresa, chi me la porta via? Mi porteranno via. Manco cavallo pazzo. E' due mesi che cerco un contatto col procuratore della Repubblica. All'apertura della prima serata del festival aveva fatto irruzione salendo all'improvviso sul palco. Poco si è saputo, sinora, sulla storia del cinquantenne Giovanni Civita, conosciuto bene invece in diocesi. Sì, io conosco molto bene, da vent'anni. E' una persona che io ho conosciuto nel tempo in cui svolgevo l'incarico di Cappellano in carcere ad Imperia. Questa persona ho avuto modo di accompagnarla, accogliendola anche in casa, in parrocchia per un bel periodo e cercando di supportarla un po' in quelli che sono stati i suoi progetti di vita lavorativi. L'ho fatto insieme alla cooperativa Il Cammino, abitativi e in generale così di socializzazione e di riscatto umano. Questa persona, io conosco le diverse problematicità che ha. E' una persona molto buona per una persona che spero sia adeguatamente aiutata con i mezzi giusti e nei giusti contesti. E colga anche questa occasione un po' particolare, magari per rimettersi di buona volontà.